Lei nel presepe suo ideale, cosa ci metterete? Cosa ci metterei? Un bambino? Un bambino rosso? E' pafutello, bello, rosso. Ci metterei tanti animali. Buona bozzi ma non è viva? Ci metteria in segno. Cambiere il vestito di pecorano. Per portare anche i giovani. Maxi Schermo per seguire la partita. E poi qualcos'altro? Beh, allora, qua non lo so. Non c'è più religione.